A volte è possibile portare avanti un progetto personale uscendo da quelle che sono le regole del mercato e del caso di Kring di Ivan Venturi di cui volevo parlarvi in un attimo. Io sono Francesco Toniolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi e sono qui appunto per dire due parole su questo videogioco Kring, che è un progetto uscito un paio di giorni fa realizzato da Ivan Venturi. Se non conoscete Ivan Venturi è uno storico sviluppatore italiano che ha percorso un po' tutto quello che è l'arco evolutivo del medium videoludico qui da noi in Italia, ha lavorato con varie realtà partendo da Simulmondo e poi dopo nel tempo è diventato sempre di più una figura imprenditoriale. Quindi da diversi anni ormai si occupa sempre di realizzare, di produrre videogiochi ma non più nel ruolo di sviluppatore ma come imprenditore, quindi un po' il leader, il capo, quello che dà la direzione al progetto, ha realizzato tanti progetti interessanti nel corso degli anni, tra cui ricordiamo il gioco di Nikola Saimrich, quello che era forse tuttora l'unico gioco doppiato in latino medievale, ha realizzato Pride Run, ha fatto vari altri giochi anche per la VR e tante altre cose e però come mi aveva anche detto, visto che ogni tanto lo vedo in alcune occasioni, tra cui svilupparti che questa festa del videogioco indipendente italiano che fa tutti gli anni a Bologna, che è organizzata sempre da Ivan, mi aveva detto appunto che stava portando avanti da un po' di tempo, da circa sei anni, anche un suo progetto personale, quindi era tornato un po' alle radici a quando all'inizio del suo percorso realizzava questi videogiochi che erano fatti interamente da lui, cosa che accadeva piuttosto spesso, era piuttosto normale per il tempo avere un singolo sviluppatore che realizzava un intero videogioco. Oggi chiaramente questa cosa diventa complessa per quello che è il mercato, quindi se si vuole portare a un determinato mercato un prodotto di un sufficiente livello, però è anche bello poter avere spazio per quelli che sono dei propri progetti personali, una cosa che dico spesso quando si va a parlare di lavoro con i videogiochi. Cioè ricordare che non c'è nulla di male nel dire ho un sogno, un progetto in mente, una cosa molto particolare da voler realizzare, va benissimo. L'importante è avere la consapevolezza appunto che si tratta di un progetto che ha queste caratteristiche e quindi poi se arriva qualche soldo, se comunque funziona bene, se gira tanto di guadagnato, ma non è quello che vi fa pagare le bollette e l'affitto, quindi l'approccio è diverso. E quindi questo Kring che ha un'origine anche particolare, anche il nome stesso, in realtà dei natali nobili perché viene dalla via dei canti di Chetwin, che parla degli aborigeni australiani che avevano appunto questa sorta di loro mappatura onirica del territorio e c'era questo termine che poi Ivan si è ispirato ed è andato un po' a modificarlo man mano fino a trasformarlo in Kring. Cosa sono questi Kring e che cos'è poi questo videogioco? Una cosa stranissima, si tratta di, in realtà è come se fosse una serie di minigiochi, una sorta di raccolta che vengono man mano sbloccati progressivamente e che sono più o meno tutti accomunati dalla caratteristica che bisogna cliccare un po' su tutto quello che capita sullo schermo, hanno questo stile visivo molto particolare, molto onirico, quasi da un viaggio allucinatorio e noi siamo queste, questa sorta di divinità sfigate, come vengono proprio presentate, un dio minore che ha avuto in affidamento quelle che sono le specie del cosmo anche lì più sfigate, più scrause che sono questi Kring e noi dobbiamo farli proliferare, dobbiamo farli riprodurre, nutrirsi, difenderli e poi andare anche a poter organizzare una sorta di esercito, partire per una crociata galattica e eventualmente andare a sconfiggere quelli che sono i grandi dei. Quindi questo è un po' il principio di base, è difficile anche a volte capire quello che succede a schermo, ma come dice anche il gioco stesso, nel dubbio cliccate, infatti basta cercare di colpire col puntatore qualunque cosa vada a muoversi e più o meno di base non sbaglierete almeno nella maggior parte dei videogiochi. Molto curioso per tanti aspetti anche il fatto stesso che il gioco si apra con Ivan Venturi che va a presentarsi e a presentare il suo stesso progetto, dicendo appunto anche che il vero segreto è legato anche alla sua natura di sviluppatore, sembra un po' l'inizio di One Piece quasi quando dice volete il mio tesoro andate a cercarlo, quella roba lì che poi è stata ripresa in molti meme. Progetto curioso, come detto, se volete darci un occhio qui sotto in descrizione, nella descrizione del video c'è il link per la pagina di Steam, quindi potete andare a vedere un po' come è strutturato, il gioco costa poco meno di 5 euro e sicuramente ne vale la pena se volete provare qualcosa di diverso, di alternativo. È un progetto, come detto, molto personale fatto totalmente da Ivan, anche tutta questa parte visiva che citavo prima molto curiosa l'ha disegnata lui a mano, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti da poter sottolineare a proposito di questi giochi, mi piacerebbe anche eventualmente fare due chiacchiere con Ivan stesso qui sul canale, quindi se dovesse essere disponibile, magari adesso nei prossimi giorni gli chiedo le sue disponibilità, sarebbe sicuramente interessante perché sono quei progetti che fa sempre piacere andare a scoprire, raccontare per uscire un po' da quello che è il mainstream videoludico, colpito il microfono mentre parlavo non c'è niente di male ovviamente nel mainstream videoludico, anche esso ha tanti aspetti interessanti però non esiste solo quello, quindi sempre curioso anche andare a vedere al di fuori da quei confini, tanto più in un caso del genere dove siamo davanti a un prodotto realizzato in realtà da una persona che nell'ambito mainstream lavora da diversi anni, ha realizzato progetti di varia natura ma comunque ben più grossi, ben più estesi, ma anche qui ha voluto togliersi uno sfizio, tornare a essere uno sviluppatore, quindi togliersi un po' i panni imprenditoriali e recuperare quelli dello sviluppo. Quindi fatemi sapere intanto se conoscevate questo Kring, se l'avevate mai sentito, se vi incuriosisce, perché effettivamente è qualcosa che esce un po' dai soliti schemi e dai soliti parametri.